In questo breve video ti spiegheremo come utilizzare gli strumenti di Voci.fm per arrivare in un attimo alla voce giusta per te. Quello che vedi in un page è un composite scelto casualmente dal nostro archivio. È diverso ogni volta che accedi a Voci.fm, così puoi divertirti a fare zapping da subito, ascoltando le voci con un semplice clic sul tasto Play. Vuoi saperne di più? Entra nel profilo ed ottieni info e contatti. Oppure puoi accedere ad una delle cinque categorie che distinguono le voci in base a settore e curriculum. Big, High Level, Flexi, Lab, Cantanti. All'interno di ogni categoria puoi visualizzare le voci come immagini, ma anche come lista alfabetica. In entrambi i casi l'ascolto zapping è veloce e divertente. Cliccando sul nome hai accesso al profilo dettagliato, con tutte le info e i contatti dello speaker o del cantante che ti interessa. Se, come spesso accade tra i nostri utenti, hai già una chiara idea delle caratteristiche della voce che stai cercando, ti consigliamo di posizionarti direttamente sul tasto Scegli la voce. Un potente motore di ricerca permette di filtrare il nostro database in base a tutti gli attributi che andrai ad indicare. Un esempio, voce femminile, conduzione sul radio locale, speaker per spot pubblicitari, presentatrice di eventi, giovanile, sensuale, energica e versatile. Consegna del materiale registrato entro 24 ore con REC in a Day. Ecco la risposta! Se invece conosci già il nome dello speaker, doppiatore o cantante che ti interessa, puoi digitarlo nella stringa e arriverai in un attimo al suo profilo. Demo, video, curriculum, social link abbinati, indirizzo mail e tutto quello che ti serve per contattarlo rapidamente. Perché se cerchi una voce, cerchi Voci.fm, la vetrina delle voci italiane. Lo strumento 2.0, ideale per i casting di radio, tv, centri di audio produzione ed agenzie. Utilizzarlo non costa nulla. E se lavori con la tua voce, iscriviti gratis a Voci.fm. Bastano pochi minuti ed ottieni visibilità mirata verso le realtà interessate a collaborare con te.